Questa è un'occasione unica per una bella famiglia come la nostra di riunirsi al completo e non dobbiamo essere egoisti. Basta! I Nickerson ci cedono la loro villa sul mare laggiù per l'agosto e proprio sul mare sono sicura che è meglio dentro. E beviamo alla salute della famiglia, eh? Vendremo tutti insieme. Quello che avevo in mente era un mese, tu e io soli. Tu e io soli, ah? James Stewart in Mr. Hobbs va in vacanza, martedì alle 20.55. Vendremo tutti insieme.